City Report Cari amici, City Report con una gradita presenza, è un po' che non lo vedete con noi, ha avuto tante cose da fare, poi se vuole ve le racconta lui. Siamo a Quinto Romano insieme a Aurelio Miranda e ai cittadini che anche loro già conoscete, li vedete tra un po', di Quinto Romano perché stiamo andando ad analizzare la situazione di MM Case via Tofano. Vi ricordate che eravamo stati qui un po' di tempo fa quando c'era stata la rapina, quelle famose torri? Vediamo cosa è successo. Ed eccoci, avete potuto vedere dalle immagini dove ci troviamo oggi, Municipio 7 di Milano, siamo con Corinne, siamo con Martino che abitano qui e ci racconteranno un po' di cose di quelle che succedono oggi, così da far capire un attimino l'evoluzione di questi ultimi anni in queste palazzine e case popolari della MM Comune di Milano. Andiamo! Allora, questo appartamento qua è chiudo da esattamente da anni. l'hanno ristrutturato ed è di nuovo chiuso. Non si sa se si affittano, se non lo affittano. Quanti ce ne avete di appartamenti così? Due. Due su una torre sola? Poi al Quinto Piano ce n'è uno e all'Ostamo uno. Quindi sono quattro? Sì. E vabbè, con la fame di case che c'è, i soldi che si perdono, perché questi appartamenti potrebbero dare un tetto a delle persone e soprattutto potrebbero rendere qualcosa di... L'hanno rifatto un anno fa questo appartamento. Quando l'hanno rifatto? L'anno scorso. Quindi un anno che è vuoto? Sì. Vabbè. Sempre queste sono le notizie. Aurelio, tu che nel Municipio 7 ti occupi anche dei disagi delle persone, eccetera, ma è possibile che abbiamo gente che dorme per strada, nelle macchine e continuano ad esserci appartamenti vuoti? Noi abbiamo persone che necessitano di un appartamento, di un tetto sulla testa, persone che hanno famiglie, bambini, e il risultato è questo. Questi sono soldi nostri, soldi pubblici. Noi abbiamo cacciato dei soldi per ristrutturare questo appartamento che è fermo da un anno. È vergognoso. Meno male che gli abitanti lo segnalano, segnalano queste cose. No, ma ecco io quello che... È chiuso da un anno. È chiuso da un anno. L'anno appena ristrutturato. Pensate che poi dicono che gli appartamenti non li concedono perché non sono ristrutturati. Qui ce ne abbiamo uno ristrutturato. Ma la domanda è, ma oltretutto, quanti soldi noi perdiamo anche dei canoni di affitto, che siano anche pochi, ma perché buttarli via con la gente per strada? Perché questa gente per strada poi costa. Costa di più che dargli una casa, fargli pagare il giusto e farli vivere in una maniera civile. Poi ci lamentiamo che Milano ha problemi di sicurezza, di criminalità, eccetera. Provate a vivere per strada e trovare gli appartamenti in giro arredati, a posto, nuovi, messi... Così, cosa fate? C'è chi è onesto fino al midollo e c'è chi è preso dalla disperazione e poi la occupa. Ecco, queste sono le situazioni che non vogliamo vedere. Queste non hanno colore politico. Questa è umanità, si chiama. Umanità e contro gli sprechi. Esatto. Un saluto, continuiamo. Un saluto, continuiamo. Le demolizioni delle torri, ci abbiamo anche i buchi nei tombini. Speriamo che nessuno si faccia male. Andiamo avanti. Andiamo a vedere i box. Siamo sempre con Corinne, abitante e anima di questo palazzo che denuncia tutte le cose che non vanno. Andiamo a vedere questi box come sono. Ti faccio una domanda. Tu la macchina ce l'hai? No. E per fortuna, perché vedendo qui queste porte come sono conciate... Guardate qui che roba. Ruggine, chiave mancante. Guarda. Torniamo a una situazione triste che abbiamo già visionato. Queste sono le cosiddette porte tagliafuoco. Avete visto la ruggine che lasciano per terra quando vengono toccate? Scusate se impallo la telecamera. Questa è addirittura bloccata. Guardate che roba. Sicurezza a Milano. Mi raccomando. E poi insieme andiamo a vedere gli impianti antincendio. Sappiamo già che purtroppo, abbiamo già visionato un attimo fa, la situazione non funziona. Sono fuori servizio. Da quanto sono fuori servizio? Tu che abiti qui. È da quattro anni che sono fuori uso, sinceramente. Sono venuti due volte vigili fuoco a farci l'intervento. Non ho detto che noi siamo ovviamente a rischio perché lo scalerio fino a un piano non arrivano. Quindi c'è un incendio. E nessuno è intervenuto. Andiamo a vedere. Comunque vi diamo contezza di quello che vi diciamo. Manca la serratura, ma vabbè. Lasciamo perdere. L'importante teoricamente sarebbe il funzionamento. E invece? Ecco Paolo. Un altro segno che questo posto non funziona bene è questo autoveicolo. Cioè, ma com'è possibile che un posto dove ci vivono delle persone, dovrebbe essere già stato demolito, ha gli impianti antincendio che non vanno, abbiamo una macchina. Che fra l'altro, poi chiederò a Corinne, di chi sarà sta macchina? Non si sa. Però nel frattempo, guardate che schifo c'è sotto. E addirittura, non sto scherzando, guardate. Anzi, un'altra situazione, caro Paolo, non ci sono neanche i vetri per terra. Quindi questa qui è già entrata così. Quindi vuol dire che questo luogo viene utilizzato come ricettacolo per mezzi di dubbia. Chiamiamoli dubbia proveniente. Ok, cari amici, stiamo proseguendo il giro. Case MM, Comune di Milano, Municipio 7. Siamo con Corinna, Martino e Aurelio. In questo momento c'è Aurelio. E ci troviamo davanti a una situazione in questi box, che fortunatamente ci sono, per chi ce li ha, dove però continuano a starci queste macchine, come le vogliamo definire, abbandonate, pericolose, eccetera. Guardate qui. Come potete vedere, abbiamo addirittura una sottospecie di macete sul sedile. Abbiamo un sacco di scarti, detriti, eccetera. E questa segnalazione l'avevamo già fatta, è stata fatta anche dagli abitanti che sono qui, ma vogliamo fare una precisazione. Siccome qualche settimana fa, giustamente, MM ha detto che aveva istituito un servizio per rimuovere i veicoli dalle sue proprietà e che avrebbe avvertito anche l'altro gestore di case popolari, che è Ale, per chiedergli l'adesione per questo servizio. Aurelio, queste non sono case MM. Purtroppo queste sono case MM e quindi ci troviamo in una situazione dove chi ha garantito un servizio non lo sta espletando, però si propone di espletare lo stesso servizio in alloggi Aler. Per quel che mi riguarda, sarebbe il caso di pensare prima dentro casa propria e poi a casa degli altri. Quindi magari partendo proprio da via Tofano 3, qui abbiamo un veicolo e se andiamo in giro da altre parti ne troviamo degli altri. Questo è particolarmente da attenzionare perché Tullio ci ha appena fatto vedere un'arma che è un macete a tutti gli effetti, che non sappiamo chi abbia messo questo macete in quest'auto e se lo verrà a prendere magari a questa sera. Soprattutto, dato che questa non può essere un'auto che viene lasciata qui per essere rivenduta perché è conciata malissimo, che scopo ha? Su questo abbiamo delle precisazioni che vi faremo sentire da parte dei cittadini che abitano qua. Comunque, penso che non sia colpo ferire ingiustamente che Meme ha promesso un servizio e in questo caso ci fate proprio una brutta figura però perché questa l'abbiamo segnalata due anni fa, forse anche di più. C'è stato il Covid. Ok, intervenite perché se no non siete credibili. Andiamo avanti. Siamo qui con Corinna, con Martino. Siamo nei box, abbiamo appena visto questa macchina, l'abbiamo fatta vedere perché ci sembrava il caso di farla vedere. Ma questa macchina qui, cosa ci puoi raccontare? Cosa puoi raccontare alle persone che ci stanno seguendo? Allora, questa macchina è qua da 18 anni ed è entrata così. Abbiamo chiamato i vigi ma nessuno si è presentato. Abbiamo chiamato anche la polizia ma nessuno si è presentato. Quindi non sono due anni, sono 18 anni perché noi l'abbiamo vista due anni fa circa. Sì, è qua da 18 anni così. Bene, questa è una cosa. Poi abbiamo visto però che l'impianto antincendio sembra che hanno sistemato qualcosa. Sì, hanno sistemato un incendio in questo periodo, hanno messo delle nuove porte antincendio, però naturalmente gli altri danni che ci sono, che comunque ci sono, vedi perdite delle fognature, degli scarichi che poi allaga continuamente. C'è un'altra perdita, sempre la famosa perdita nelle cantine, che è dal vano dove mettono i materiali mattonelle e quant'altro. Sì, è un locale servizio. Ogni 3x2 va bene, si parte del discorso che comunque ogni 3x2 parte l'ascensore perché comunque... Ecco, la questione dell'ascensore, in queste settimane abbiamo visto tante situazioni anche in altri palazzi qui, e anche qui c'è lo stesso problema degli ascensori. Sì, è che fortunatamente l'assistenza te la manda abbastanza in fretta per sbloccarlo, fortunatamente, perché... L'altra sei a mezzanotte abbiamo chiamato perché... E sono venuti. E sono venuti perché l'hanno ripenito dal San Carlo. Mi ha detto scusi che abbiamo chiamato a quest'ora. Però si sa. Siamo sempre nei box, stiamo finendo il giro dei box perché siamo venuti a ricontrollare quello che avevamo già visto. Vi abbiamo detto le cose positive, vi stiamo anche elencando quelle negative perché è giusto dirle. Troviamo che, essendo stato fatto qualche lavoro, si poteva fare del meglio anche per tutti questi tubi che appoggiano su ferri che sono arrugginiti, queste crepe, queste incrostazioni. Speriamo che con i fondi che arriveranno adesso anche dall'Europa anche queste case riescano a ricevere un livello di decoro maggiore di quello che c'è adesso perché insomma rinfrescare e mettere due porte non mi sembra sufficiente.